Io non ho mai deciso di lavorare da prete, ci sono cascato dentro, perché quando terminai gli studi a Roma era giugno e quindi dalle nostre parti, penso in generale però, gli incarichi vengono assegnati a settembre. E quindi io avevo un'estate che facevo, tornavo a casa, perché fino allora ero stato al seminario, collegio, avevo 27 anni, mi vergognavo a tornare a casa e allora chiesi ospitalità a due amici, preti operai, a Viareggio, Sirio Politi e Rolando Melesini, la piccola comunità che si stava formando. E di lì iscrissi al vescovo che mi mandasse per iscritto, come era la prassi, allora la mia destinazione. Te l'hai ricevuta quella lettera? Io no, mai, e sono rimasto lì.